Sì, amore, ho pure ragione, ma non resti a parlare, hai capito? No, no, infatti la cosa riduta è che c'è lì qualcuno, il gritto, che se lì c'è più che si fa tra questo amore, la cosa riduta è quella. Ma dove c'è l'aria, hai delle luci? E infatti fumo, 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 fumo e non ha, guarda io. Sì, ma lo sto complicando qua, eh. Non stavo a vedere che mi perdrebbe la marzio. Ho 38.000 e il quad. Eh, oggi tu mi ha stati 600 hb, e poi? No, tu ci fai la camera più pronta e poi il shock. Ah. Ah. Hai venuto a abbassarlo? Eh sì, il bagagliere fa cura gli stendere a farlo a me. No, no, ho venuto due in forma normale curando e scenduto morto, non c'è problema. No, non c'è problema. O inseris tendere a dissubilare la misa pola pubblica di formazione, ma quando una non esercit population è diversa. Ah ma vabbè, chi siuga del remo? Bello. Guardate le mie st硫ze ptanali persone non rip CHOC. che io sono zappo che sto scemo i tendi sono attivi li spacco io però va un po' di per 101 in due minuti la libertà non è più non è più no no nè no no questa era finita la questione è finita significo dai quindi scusami o baglio buggo venga ancora più o meno su 5 cp me ne dava 25 cp quindi è corretto, i cp non mi sembra che vadano correttamente non vado richard raster che si sta citando di dragger nel culo ringraziando richard mi ha fatto da rendibot diciamo che i cp sono ancora bugati sono solo 2 volte su 100 usando slice mi si sono azzerati se lo finisci in p prendo una regolamenta tralinale che è convivene il shot di alcune volte i bug sono soltanto non è bene il cp non è niente se la ciavola è una banda di nub che non sapete di bugar io all'inizio avevo coltuto con l'armo delle perdasdillipo sono divenne per spade, è un Venom e appena giusto io, come se non è nessuna cosa si arriva oddio a dire che fanno proprio schifo la giusto apposta fanno quindi con bella diversa di mann un po' davvero schifo un po' bello che mi ha avuto l'unico io ho capito sì ma guarda, io ho fatto 90 io ho fatto 90 io ho fatto 90 ecco and one bond who came so you didn't get it it was quite a blow oh that would so what are you doing what tightensleeve is it cool what the gear you got now oh yes oh yes there are two targets their fame our client claims Tosk is still in rehearsal so there's plenty of activity at the opera house and you shouldn't be tuned he travels he travels with an armed desk but there shouldn't be any other security to speak of and you can join us please and follow clothes while we yes as 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 Sì, 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 sì. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 He's on!